CGL e UIL annunciano uno sciopero nazionale generale per l'11 aprile. Il segretario della UIL di Rovigo, Gino Gregnanin, ci spiega quali sono le motivazioni alla base della mobilitazione. Noi facciamo 4 ore di sciopero per quanto riguarda le ultime ore di ogni turno e 8 ore di sciopero nel settore dell'edilizia. Il ritrovo sarà alle 10.30 davanti alla prefettura e alle 17.30 faremo uno flash mob in piazza Garibaldi. Le motivazioni sono tre. Una motivazione per quanto riguarda noi siamo zero morti sul lavoro. Manca la cultura della sicurezza. Dobbiamo rafforzare quello che è il ruolo degli RLS-T e degli RLS. Gli infortuni a livello nazionale mortali sono stati 1.041 nel 2023 e 101 nel Veneto sempre nel 2023. Il primo primestre del 2024 sono stati 4 rispetto ai 2023 che sono stati 12. Sono sempre tanti. Quello che noi vogliamo è proprio zero morti sul lavoro. Subappalti a cascata. Noi siamo contrari ai subappalti a cascata. La formazione deve essere fatta sui posti di lavoro continua ma al momento che dobbiamo entrare a fare formazione. Questo è il principio che come organizzazioni sindacali dobbiamo avere. Non abbiamo una soluzione in tasca per risolvere tutto questo. Sicuramente dobbiamo attivarci a partire anche dalle scuole. La cultura della formazione di salute e sicurezza deve partire dalle scuole. Ovviamente chiediamo al governo di fare quello che le parti sindacali hanno chiesto più volte. E di questo non siamo contrari al decreto legge che si parla di punti a credito. Noi siamo una vera patente a punti, non a crediti come ha fatto il governo nell'ultimo decreto. Piero Alberto Colombo, segretario generale della CGL di Rovigo. Gino Gregnanin della Wilci ha esposto le ragioni dello sciopero. Che cosa vi aspettate dalla mobilitazione a questo punto? Sì, noi come diceva il collega faremo uno sciopero generale di 4 ore in tutti i settori del privato tranne gli edili che ne faranno 8 l'11 di aprile per alcune questioni che riteniamo determinanti. Sicuramente il tema della salute e della sicurezza che rimane prioritario e sulle quali le risposte e i provvedimenti del governo sono totalmente sbagliati o insufficienti, ma abbiamo anche come tema correlato che ci porterà poi alla manifestazione del 20 aprile a Roma, sempre su questi temi, una grande manifestazione nazionale di CGL e Wil, la questione di una riforma fiscale ma vera, progressiva, come è previsto nella nostra Costituzione, che sappia premiare soprattutto i lavoratori dipendenti e pensionati che oggi pagano oltre il 90% delle tasse in Italia e quindi sono quelli che più di tutti alimentano i nostri servizi, il welfare state che viene messo gravemente in discussione, lo vediamo nell'ambito dei problemi legati alla salute e alla sanità e oltre a questo, quindi a una riforma fiscale vera e a una lotta all'evasione vera, anche con eventuale tassazione delle rendite finanziarie che oggi sono improduttive e paradossalmente sono tassate circa la metà del lavoro dipendente e dei pensionati, c'è anche il tema che noi abbiamo definito di un nuovo modello di fare imprese, un nuovo modello sociale che guardi alla centralità del lavoro, oggi considerato molto spesso la stregua di una merce e quindi precario e sottopagato perché lì si scaricano i costi pensando che così le imprese possono stare sul mercato ed è un modello inaccettabile e quindi il contrasto anche al lavoro precario, all'aumento serio dei salari a partire dalla contrattazione collettiva nazionale, ma anche finalmente investimenti pubblici e privati veri per un nuovo modello sociale e di impresa, inteso come anche politiche industriali che sappiano rilanciare, pensiamo quanto ne avrebbe bisogno il nostro territorio, l'industria in Italia anche in termini di transazione ambientale e digitale.